Ora Jamcraft Siamo a livello 83 E' male Comunque 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 E' su sto giro li provo un po' E' vero 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 Grazie a tutti. 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 non prendono la... vediamo se c'entrano di qua i bastardi si allungano eh forse è questo questo è lì forse li faccio qui non uso uno invece non c'entrano riproveremo è molto complicato forse per farlo più potente concentrare e fermare le onde all'inizio è è è è è è Alla Grazie. 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 E' un cazzo di mano, figo. Fighe. Grazie. Dunque, di qua è chiuso, quindi girano per forza là sopra. Dove non si è sopra. No. Grazie a tutti. spettacolo toccato un po che c'è l'ucoa figa ma si riva rimarato 5 e poi bisogna ragionare su quelli da buttar via però per adesso minchia livelli è bello a va bene Sì, vieni a prenderla. Ma comunque non mi sembrava buona che da quella. Si vuole, si vuole... via a 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 Grazie a tutti. 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 quando passano quelle veloci. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. e e e e e e e e e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Aumento il danno con il tempo. Grazie a tutti. 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 Basta. Grazie a tutti. No. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. sono lontani. a tutti. a tutti.